Buongiorno e benvenuti, e questo è quello che vi ho appena detto, come ve l'ho detto, ve l'ho detto con la LIS, la lingua italiana dei segni, che cos'è? Forse se ci seguite l'avete già visto altre volte, non è la prima volta che, lo vedete qui in basso alla mia sinistra, c'è un interprete, un interprete LIS, anzi che ringrazio subito, ringrazio Omar Ferroni, che è appunto il nostro interprete di oggi, perché oggi parliamo di un mondo, quello dei sordi, che insomma si fa sentire, è proprio la parola giusta da usare oggi, perché abbiamo qui due ospiti con noi, che voglio subito introdurvi, ed ecco i quali vedete qui di fianco a me, Francesco Brizio in arte Brazzo, un cantante, un cantante rap, e un attore, un attore comico, Daniele Barbera, in arte Barabba, buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti e due. Allora, incominciamo subito perché sono qui ospiti con noi i due cappelloni, per me a dire che ho qui di fianco, perché hanno inventato un canale YouTube, come tanti canali YouTube esistono al momento, ma dal titolo davvero davvero interessante, mai dire sordomuto. Allora, prima di tutto vi chiedo questo, appunto, nel titolo ci dite mai dire sordomuto, quindi non dobbiamo dire sordomuto, è sbagliato dire sordomuto? Allora, lo spiego io. All'inizio, ovviamente per me è la prima volta a essere una diretta, quindi grazie per l'invito, grazie Fabio. In realtà la parola, la frase mai dire sordomuto è stata creata, allora, in realtà noi due, io e Brazzo, ci conosciamo già da sette anni, siamo una sorta di fratelli per intenderci. Proprio due anni fa abbiamo incominciato a riflettere, quindi di creare dei video comici che fossero legati più che altro al discorso calcistico, sempre con dei doppi sensi. Quindi questa cosa in realtà si è sviluppata sempre di più, c'erano molte visualizzazioni e quindi ovviamente abbiamo fatto un'altra riflessione e ci siamo detti perché no? Quindi abbiamo creato questo dire mai dire sordomuto. Riprende un po' il titolo di mai dire gol legato al mondo udente. Io sin da piccolo, dalle espressioni, da quello che veniva detto in qualche modo, leggevo le situazioni, però non c'erano sottotitoli e quindi ci siamo detti, è vero siamo sordi ma perché no? Quindi ci siamo attivati e insieme ad altre cinque persone che fanno parte dello staff, quindi siamo in sei, abbiamo ragionato, abbiamo aggiunto e sviluppato tutta una serie di idee. Tutti e sei non udenti sono oppure avete anche ben udenti? No, sono tutti sordi, sono tutti sordi. Tutti qui conoscono la lingua dei segni, ovviamente non sono potuti venire qui, quindi ringrazio comunque loro per il lavoro svolto e per come sta andando. Quindi siamo noi due, più c'è anche Mauro, quindi Roberto, Mattia, Cristian, che appunto fanno parte del nostro staff, quindi li ringrazio anche se non sono qui presenti. Ovviamente la comicità, l'idea e quant'altro parte dal mondo udente legato in qualche modo al mondo sordo. Quindi noi appunto ragionando su questo sì. Ecco, un mondo tu Daniele che conosci molto bene questo mondo perché mi dicevi tu sei ad esempio figlio di udenti giusto? Cioè i tuoi genitori non sono sordi? Sì esattamente, sono cresciuto appunto in una famiglia di persone udenti e sono cresciuto utilizzando la parola, quindi il labiale. Adesso sono qui proprio a far vedere il valore della lingua dei segni, perché è vero per me è stata una seconda lingua che in realtà mi ha aperto un mondo nuovo. Quindi in qualche modo ho trovato delle risorse qui. Quindi grazie a queste persone che sono ricche di talento, ovviamente le persone sorde hanno una loro ricchezza, per me è sempre stato difficile stare in mezzo alle persone udenti, ovviamente ci serve dell'inclusione proprio per far vedere soprattutto alle persone che non ci conoscono chi sono le persone sorde. Ecco invece Brazzo, tu hai una storia invece completamente diversa. Tu nasci, la tua prima lingua molto probabilmente è stata la LIS, giusto? Esattamente, giusto. Sono cresciuto appunto in una famiglia di persone sorde e quindi penso che sia normale che utilizzare la LIS in qualche modo LIS pura sia proprio il fatto che l'ho sempre utilizzata. Ovviamente ho avuto amici udenti, sono stato a scuola con persone udenti, in qualche modo una doppia identità, sono integrato, però la mia lingua madre è la LIS. Ecco allora, torniamo ai vostri video. Mi sento a mio amico in questo modo. Ecco, torniamo allora ai vostri video, torniamo a questa pagina, una pagina YouTube, un canale YouTube, poi c'è anche la pagina Facebook, siete su Instagram, siete su tutti i social, insomma avete conquistato tutti i social esistenti, però è un fenomeno unico in Italia immagino, giusto? Siete i primi in Italia a fare una cosa del genere? Sì, siamo in assoluto i primi. All'estero sono state create cose simili, ma in Italia siamo i primi. Proprio perché ci sono tante persone che ci disqualizzano e ci seguono, quindi sì, siamo in assoluto i primi. Allora, io ne ho visti i video, anzi direi di vederne qualcuno adesso. Magari, io adesso sto in silenzio un attimo perché non abbiamo calcolato il fatto che appunto dobbiamo mandare il video, fare la traduzione simultanea. Ecco, in questo momento quindi, allora magari parlo io mentre vedo i video, poi torniamo su di voi nel momento in cui vi chiedo delle risposte. Questi sono i video appunto che fate, dove giocate tantissimo sulla comicità, sul doppio senso, dove vi mostrate anche la lissa proprio, dove fate vedere la potenza di una lingua vera e propria, dove si può tranquillamente fare comicità, fare qualsiasi tipo di discorso serio, sul doppio senso, a volte anche un po' magari scabrosi, anche fate delle battute un po' otto, ho visto anche su certi video. Come sono stati accolti questi video dalla vostra comunità? Però adesso che noi ci da udenti, io mi diverto come un matto a vederli e anzi rimango sbalordito da quello che si può dire semplicemente facendo, che semplicemente non è, dei gesti, dei segni, anzi scusate i gesti, so che è sbagliato, dei segni con le mani. La comunità, la vostra comunità come ha accolto i vostri video invece? Torniamo su di loro, quindi Marco. Allora, in maniera positiva e negativa giustamente, perché siamo all'inizio, abbiamo incominciato l'anno scorso, quindi da un anno. L'8 gennaio abbiamo festeggiato appunto il primo anno e quindi nel 2019 stiamo già lavorando su nuovi progetti che riguardano molto di più la cultura sorda, in maniera un po' più approfondita, perché proprio l'obiettivo è essere più visibili al mondo udente. Quindi partendo da questo presupposto dire alle persone udenti noi sordi ci siamo, proprio perché vogliamo levare tutti quei pregiudizi che esistono nei nostri confronti, perché nel mio caso io sono cresciuto parlando e altre persone che invece utilizzano la lingua dei segni hanno avuto delle grosse difficoltà. Vorremmo essere integrati in tutti i modi. poi ci sono persone che utilizzano la lingua dei segni e altre che utilizzano protesi piuttosto che impiantati. Però siamo tutti sordi, quindi in realtà ad oggi sono delle grosse difficoltà, però grazie a questa comicità cerchiamo di abbattere queste barriere che riguardano proprio la difficoltà e il nostro obiettivo è proprio questo. Allora vi faccio una domanda, non ci eravamo messi d'accordo prima, quindi potete anche non rispondermi. La cosa di cui siete più orgogliosi appunto di fare questo video e invece la cosa che vi fa arrabbiare, la critica che vi fa più arrabbiare qual è? Allora secondo me le critiche possono sapere proprio se sono costruttive e possono portarci a un miglioramento. Sì sono d'accordo anch'io, l'orgoglio è il fatto che io da persona sorda valgo e lo posso dimostrare perché abbiamo del talento noi come gruppo e il nostro obiettivo non è praticamente rendere disagio alle persone ma farle capire che noi siamo in gamba e siamo in grado di poter fare qualsiasi cosa. Allora apriamo una piccola parentesi all'interno del mondo di mai dire solo un punto perché appunto parlando di fare qualsiasi cosa abbiamo in realtà qui al tavolo anche un cantante perché Brazzo è un cantante rap. Giusto Brazzo? Giusto. Giusto. Faccio anche il comico. Faccio anche il comico. Faccio anche il comico infatti. Come senti appunto Brazzo sa anche appunto è anche come si dice oralista no? Quando posso parlare come si dice anche c'è un termine preciso no? Non lo so. Cioè termine però non lo uso io. Io intendo sordo che è solo quella parola che vale per tutto. Perfetto. Abbiamo un pezzo di Brazzo io vorrei vederlo magari un attimino così poi magari lo mettiamo anche nei commenti di questa di questa diretta così che si possa sentire si possa si possa vedere come è nata l'idea e come fai cioè proprio te lo chiedo proprio tecnicamente come fai a cantare andare a ritmo a sentire la musica? Allora all'inizio è sempre stato il mio desiderio sin da piccolo. Ovviamente avevo dell'imbarazzo e avevo delle difficoltà per capire e conoscere la musica però è diventata poi una sorta di sfida. ovviamente col tempo è diventata una passione e ovviamente per conoscere la musica dovuto allenarmi tantissimo sul ritmo è servito molto tempo e avevo una persona di fronte a me e quindi il fatto che ci fosse questa persona in qualche modo mi ha stimolato e mi ha assorbito. ovviamente questa persona allora per la lis la musica non esiste nel mondo sordo nessuno ha mai provato questa cosa e quindi io ho voluto dimostrare proprio che al di sotto di tutto questo c'è una sorta di messaggio che il fatto che la lis non sia riconosciuta e per me è diventata una sorta di sfogo e quindi ho scelto come stile il rap per parlare di questo. ti dice io ci ho dovuto lavorare tantissimo per convincerlo perché aveva delle grosse difficoltà a mettersi in luce in qualche modo e invece abbiamo lavorato assieme proprio sulla corporalità e su quant'altro e ci è stato successo. Daniele come un pippo baudo un cecchetto che ha scoperto il talento di brazzo. Si va bene insomma abbastanza dai. No in realtà ovviamente sono anche qui per stimolare e lavorare sulle qualità di queste persone cercando di tirargliele fuori perché spesso se non si fa un passo verso quella cosa non si esce mai. Quindi è sempre il nostro obiettivo è sempre dimostrare chi siamo e il fatto che utilizziamo la parte comica serve anche proprio a sviluppare e a creare una sorta di interazione con altri. E mi sicuro ascolta soprattutto i sordi. Sì perché i sordi hanno le proprie capacità e le hanno soprattutto e purtroppo il mondo udente non vede queste capacità e noi vogliamo proprio diffondere questo pensiero soprattutto nel mondo udente che magari un domani le persone sorde possano essere presenti nel cinema, nella televisione, nella musica. E quindi che venga sviluppata e sia diffusa questa cosa. Io davvero vi invito ad andare a vedere i video di Mai dire il sordo muto perché adesso poi lo vede soprattutto Daniele era un po' teso per la diretta e quindi è un po' in tensione oggi. Però mi assicuro che fanno morire da ridere cioè fanno ridere tantissimo fanno e soprattutto si vede veramente il talento non solo nel scrivere le battute che vi assicuro non è una cosa facile scrivere le battute ma nel poter riuscire a interpretare, riuscire a portare questa comicità con la LIS, con i sottotitoli anche in molti casi però per tutti. Cioè chiunque riesce davvero a ridere e questo è un merito che io vi riconosco e vi faccio i complimenti per questo. Grazie, grazie. In realtà devo ringraziare Brazzo per il sacrificio che c'è stato dietro perché io mi sento in qualche modo non molto responsabile del gruppo. Brazzo ha lavorato molto e ovviamente la comicità e far ridere un po' il mio ruolo. Quindi è questo. In realtà lavorare sulle battute soprattutto a doppio senso è un lavoro enorme perché le battute per i sordi non sono le stesse che potrebbero essere per gli udenti quindi trovare un'interazione tra le due perché essendo due lingue diverse diventa difficile. Quindi noi abbiamo pensato e lavorato per far ridere tutto il pubblico. E' molto interessante perché appunto come diceva adesso Brazzo sono due lingue diverse. Immaginatevi appunto la classica puntata del Letterman Show in inglese quando il pubblico ride a volte non lo ridiamo perché magari la battuta è troppo inglese o troppo americana per noi. Qui quindi anche qua è una difficoltà proprio di riuscire ad adattare la battuta anche alla lingua italiana. Sì questo è il lavoro, è il nostro pensiero, è il nostro lavoro perché il nostro obiettivo è far ridere tutti. Sia che si utilizza la lingua dei segni che chi praticamente utilizza la lingua vocale. E appunto come avevi detto continua a ripeterlo anche Roma nella sua traduzione lingua dei segni è una lingua, una vera e propria lingua non è linguaggio, non è gesti come molti dicono ma è proprio appunto una lingua che ha tutta una sua struttura, una sua storia, una sua dignità anzi dovrebbe averla. Ricordiamo che invece c'è questo grosso problema che insomma il governo italiano tante volte è arrivato lì per dire sì esiste, sì la riconosciamo ma poi ancora oggi 2019 niente. Ovviamente speriamo che venga riconosciuta la nostra lingua così da poter anche noi sicuramente avere più visibilità e soprattutto migliorarci perché in Italia purtroppo c'è il problema che stiamo sempre indietro. Se doveste vedere all'estero probabilmente vi renderete conto che loro sono già molto più avanti rispetto a noi e questo è quello che vogliamo. Ditemi se sbaglio, sono pro, insomma fado oltre, ditemi se sbaglio, sarebbe anche la volta poi perché si passa a pensare ai sordi non più come al disabile di turno ma come una minoranza linguistica a un certo punto, no? Sì potrebbe essere anche se non credo, ovviamente le persone udenti possono imparare la lingua dei segni, perché no? Come una sorta di materia facoltativa, come un'altra lingua possono sceglierla nel caso. Come studiare l'inglese. Come studiare l'inglese in qualche modo. Anche questo sarebbe molto interessante capire anche che sviluppi potrebbe avere la LIS nel mondo degli udenti invece. Insomma, mi immagino, appunto, essendo una lingua che può essere imparata da tutti, potrebbe avere anche delle interessanti implicazioni o utilizzi nel mondo udente, no? Sì, si potrebbe, nella vita quotidiana nel caso noi avessimo bisogno potremmo interagire con persone che la usano. Quindi se passasse dalle scuole probabilmente ci sarebbe una conoscenza maggiore, perché la scuola serve per l'apprendimento e quindi si parte dalla base. Se ovviamente noi vogliamo essere capiti c'è bisogno di utilizzare la LIS perché è la nostra lingua madre. Ci sono corsi apposta, ovviamente, per impararla nel caso e comunque stanno prendendo molto piede. Allora, chiedo a Daniele che mi diceva appunto, la stampa, quanto è difficile imparare la LIS, Daniele? Allora, in verità, come dicevo io, sono cresciuto come persona oralista, ma sette anni fa sono stato inserito all'interno dell'ente nazionale sordi dove c'era una branca che si occupava del teatro. La prima volta ho avuto delle grossissime difficoltà, anzi ero proprio scioccato perché tutti segnavano in maniera molto 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 veloce e io avevo paura di sbagliare, quindi per me è stata una novità e ho dovuto aprire la mia mente a questo mondo nuovo. Lì ho scoperto di poter essere inserito, è servito tanto tempo, pazienza, però grazie a me, dice Brazzo, che ti ho insegnato la LIS, allora, io ho fatto una fatica pazzesca a impararlo, però col tempo, ovviamente all'inizio non ci capivamo, però un po' alla volta, ripetendoci, siamo arrivati a comprenderci. Quindi è proprio questo quello che voglio far capire, che come l'ho imparato io, lo puoi imparare qualsiasi altra persona o dente, chiunque che siano sordi oralisti o che persone che non conoscono la lingua dei segni. La potresti imparare anche tu, te la possiamo insegnare noi, no, magari non io, nello specifico. Usiamo Brazzo come maestro, va bene. Perfetto, perfetto, certo, accetto, già l'ho insegnato a lui. Allora, insomma, i risultati si vedono e si vedono molto anche, quindi complimenti al maestro Brazzo. Tornando ai vostri video, qual è secondo voi il video di cui andate più fieri? In realtà non ce n'è, un po' tutti, perché il lavoro che c'è stato dietro ha comunque un valore, quindi l'importante era poi mostrarlo. In realtà non esiste un video, anche perché lo facciamo semplicemente con passione, quindi il nostro è far ridere, una volta che arriva noi siamo soddisfatti. Daniele, il personaggio che ti diverti di più fare invece, perché so che ci sono dei personaggi anche ricorrenti ogni tanto, c'è il dottore, ho visto, c'è l'allenatore di calcio, qual è il personaggio che ti diverti di più fare? Bastiani, c'ho visto, una specie di Bastiani, c'è anche di Masterchef, Mastercheffoni, una cosa del genere che avete chiamato, mi sembra. Mastercheffoni, ecco, è stato aggiunto apposta. Sì, è stato aggiunto apposta. Il mio preferito, in realtà mi piace proprio imitare qualsiasi personaggio, perché in realtà è una cosa che amo, amo imitare, che sia famoso o non famoso, in realtà mi viene naturale, quindi mi diverte. Quindi, se devo dire la verità, il mio preferito è Alberto Diavola. Cioè il contrario di Alberto Angelo. Ah, che è il contrario di Alberto Angelo. Perché questo personaggio, ovviamente, Angelo è un personaggio famoso, ho pensato che potevo in qualche modo imitarlo nella versione sorda, raccontando storie, e questa cosa qui mi ha colpito molto e quindi ho deciso di lavorarci. Però anche gli altri personaggi, ovviamente io nei personaggi posso mettere o imitare lui, ad esempio. Lui è la brutta coppia, dice Brazzo. Perché ci sono ovviamente tante persone, si confondono, convinti che io sia Brazzo, mentre invece è lui. E infatti... E mi dicono, ah ma sei tu il cantante, dico no, ma che lui non sa cantare. Infatti Daniele... Perché lui non sa cantare, quindi come la mettiamo, dice Brazzo. Daniele, infatti volevo chiederti, ha quando l'imitazione di Brazzo a questo punto anche? No, ma è, lo so, è a sorpresa, è a sorpresa, mi devi chiedere i diritti prima di tutto, dice Brazzo. So, parlavi, Daniele, parlavi... Ci possiamo, ci possiamo lavorare. Eh, Daniele, parlavi di gente famosa, no, ovviamente mi vedi in mente quindi Brazzo, no, giustamente. Sì, potrebbe essere, vedremo, vedremo. Così poi, così non saremo più amici, dice Brazzo. No, vabbè, Brazzo. Brazzo, tornando invece alla tua carriera di cantante, vabbè, allora, il tuo primo singolo ha fatto un successo pazzesco anche perché, diciamo, hai trovato un titolo anche che era geniale, hai proprio voluto rompere subito gli schemi con la tua prima canzone, poi appunto c'era, ricordaci, come si chiamava la tua prima canzone, adesso invece cosa c'è fuori? Vabbè, veramente le canzoni sono abbattissime. In realtà siamo a sei canzoni. Wow. In due anni. In due anni, quindi c'è stato un lavoro enorme dietro. Quindi l'obiettivo è sempre per me. Il mio obiettivo è sempre l'argomento riconoscimento della LIS, quindi il messaggio, della cultura, dei problemi e le difficoltà che riguardano le persone sorde e la lingua dei segni. Sto continuando e sto lavorando su questo percorso. Volevo far notare, sono stati conti che Brazzo, nel momento che adesso si è rilassato, è stato in diretta, ha cominciato a parlare in italiano e quindi mi va insomma a posizionare che con l'interprete, brazzo non facciamo, cioè poi facciamo una confusione pazzesca qui adesso, allora. Ovviamente riesco a farle tutte, entrambe, quindi. Questa è la fortuna, ad esempio, vedete, cioè di poter parlare due lingue contemporaneamente. Io sfido chiunque altro a poter fare una cosa del genere, ad esempio. Quindi insomma, capite la potenza e l'importanza della LIS per appunto non solo a questo punto, non solo per i suoni, ma per chiunque a questo punto. Però non mi hai detto, Brazzo, non mi hai ricordato, no, come si chiamava la tua mia canzone, che voglio farlo dire a te, e adesso invece cos'è che c'è fuori da poter sentire di tuo? Allora, la prima, sono sordo mica scemo, sono sordo mica scemo, era la prima. È un titolo un po' provocatorio, perché ovviamente il prep prevede questo, è del mio stile. L'ultima si chiama A Noi Va Bene Così, e l'ultima si chiama A Noi Va Bene Così, senza che noi accettiamo la sordità, quindi noi accettiamo la nostra sordità e la viviamo serenamente. Accettiamo la vita quotidiana, va bene, va male, siamo sempre positivi. Con te c'è una cantante? Ah, scusa, Daniele? Sì, ma dice, non utilizzare la voce, segna, c'è l'interprete, è lì. Diceva, quando si parla di cantante, faccio cantante, diviene automatico. Vuoi cantarci un pezzo, Brazzo? No, no, brazzo, no, adesso no, sono fuori servizio. Ok, insieme ad un'ultima canzone c'è una cantante anche, giusto? Sì, esatto, una ragazza udente, si chiama Marianna Combi. Sì, si chiama Marianna Combi, aveva già fatto delle canzoni utilizzando la Liss, era un suo desiderio che aveva già utilizzato, quindi abbiamo pensato di lavorare assieme. Perché dicevano, dicono che è una bella voce, quindi abbiamo deciso di collaborare. Questo dicono che è una bella voce, devo dire, è divertente. Dicono. Sì, sì, è bellissimo. Dicono, dicono. Brazzo, ti racconto questa cosa dentro il mio personale, io sai, faccio anche il filmmaker, io ho trovato un lavoro grazie ad esempio a un ragazzo cieco che ha detto che sono un bravo cameraman. Quindi insomma, perché no, si può fare anche la cantante, quindi giustamente bisogna fidarsi degli altri, giusto? Bravo, brazzo. Hai fatto bene? E devo confermare, devo confermare che ha una bellissima voce questa cantante, Marianna giusto dicevi si chiama? Esattamente. Complimenti davvero a Marianna, Marianna Combi. Molto bello anche perché appunto in 3-4 minuti di canzone si capisce tutto e si vede proprio l'unione di quello che appunto dici tu, queste due lingue che si rincontrano a prescindere da chi sia l'udente o chi sia il sordo. Quindi insomma, davvero molto interessante e davvero complimenti Brazzo. Grazie. Siamo quasi in chiusura, siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata, vi chiedo di dirci dove possiamo però vedere tutti i vari video di Mai Dile Sordomuto. Allora, su Facebook o anche su Instagram, ovviamente su Facebook è quello che in realtà inseriamo, mi raccomando condividete sempre, sempre. Se volete vederlo, poi dovete anche condividerlo. Così da poter allargarci in qualche modo. Qualche anticipazione sui prossimi video, qualcosa di nuovo che sta arrivando, che ci potete dare qualche regalo, così. Allora, in realtà non posso perché sono a sorpresa. Perché appunto stiamo lavorando, cerchiamo di lavorare in maniera adatta, proprio perché abbiamo dei progetti futuri, come appunto dicevo prima, per quanto riguarda la cultura sorda, dobbiamo lavorare su quel tipo di comicità e soprattutto lavorarci più a fondo. perché appunto dobbiamo far vedere alle persone odenti, nella vita quotidiana, una persona sorda come vive. Quindi noi come fratelli sordi in che modo viviamo. Sì, un po' i gemelli diversi, infatti, sembra, spesso volentieri. Diversi. Diversi, diversi, diversi. Separati. Lui è il fratello adottivo. Lui è il fratello adottivo. Poco diversi, però. Molto diversi. Ah, molto, dici molto. Ma che? Allora, io vi ringrazio davvero tantissimo per essere qui con noi oggi. Vi seguiamo su tutte le varie pagine. Vi metto Facebook, YouTube, Instagram, cos'altro c'è? Basta. Non avete... C'è su YouTube, però ultimamente ci siamo dimenticati di quel canale. Ultimamente stiamo utilizzando Instagram e Facebook. Facebook, ottimo. Dovremmo ovviamente caricare delle cose anche lì. Mi sentra. Invece, brazzo su YouTube, perché è strettamente collegato alla musica, quindi è molto più facile vedermi lì. E anche sulla pagina Facebook e Instagram. Grazie. Avete detto tutto quello che c'era da sapere e la cosa interessante è l'avete detta appunto usando un'altra lingua che, insomma, andrebbe forse imparata meglio che da tutti noi che abbiamo seguito. Io chiedo scusa invece a chi magari da casa appunto seguiva la liste, che magari abbiamo fatto qualche errore di inquadratura, di stacco camera, vi chiedo scusa, stiamo cercando di imparare anche noi, cercheremo di migliorare sempre per cercare di rendere sempre più accessibile la comunicazione di Milano News a tutti quanti. Brazzo. Grazie mille di essere qui con noi. Tornaci a trovare quando usciranno le prossime canzoni, perché siamo sempre ben contenti di dare spazio alla tua musica. Daniele, non vediamo l'ora di vedere il prossimo video e di vedere ancora magari appunto con questo Piero Diavolo. Come chiama Piero? Non è Angela? Piero Diavola? Alberto Diavola. Alberto Diavola. Siamo ben curiosi di vederlo e quindi seguiremo con grande curiosità le varie pagine, soprattutto la pagina Facebook di Mai Dire Sotto Molto. Io divulgo forte. Io divulgo forte. Io divulgo forte. È lo slogan di Perfetto. Sì. Mentre io ho tutto gusto. Eh, che è strettamente. Voglio divulgare forte all'arrivare all'altro intero per capire chi siamo noi. Tutto qui. Insomma, io direi che ci sono milioni e milioni di libri, molto probabilmente, che spiegano meglio di me sicuramente questi fenomeni, ma forse questi video lo spiegherò ancora meglio di tanti milioni di libri e di scienziati che in questi anni hanno cercato di spiegare la situazione. Insomma, sono ragazzi che si divertono, ma oltre a farci ridere ci fanno capire, cercano di mandarci un messaggio che mi viene a dire anche è molto difficile non capire, nel senso che è un messaggio diretto, arriva facile e se non lo capisci, vabbè, non sei sordo. Se forse sei scemo, come diceva giustamente la canzone di Brazza, giusto? Perfetto, davvero, grazie mille a tutti voi, davvero grazie mille, grazie mille. Grazie anche a Omar che ha fatto un ottimo lavoro traducendo e interpretando, quindi grazie mille davvero Omar, complimenti per il tuo lavoro, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguiti e noi ci vediamo sempre qua comunque domani alle 12.30 in diretta su Milano News. Grazie mille e grazie ai nostri ospiti. Ciao!